La vita ha senso solo se la doniamo agli altri. Così padre Giuseppe Cuomo Deognano ha spiegato il senso della pagina del Vangelo di ieri raccontando la sua esperienza personale di missionario in Badagascar. Sentiamo. Dio ci vuole dire, fratello, dona la tua vita, sappila offrire per il tuo fratello, perché il cristianesimo consiste soprattutto in questo. La vita non vale la pena di essere vissuta se non è un dono agli altri per poter andare a Dio. Io a Dio ci vado attraverso gli altri. Perciò finiti i miei studi, lasciai tutto, cominciai la teologia e partii per l'Africa. Ho passato 41 anni in Madagascar. È la gioia più grande della mia vita. Ho potuto dare il meglio di me stesso. Ho dato tutta la gioventù. Termino con questa espressione di Madre Teresa di Calcutta, che un giorno, vedendo una bambina, infreddolita, con un vestito, tutto lacero addosso, e forse non aveva neanche altro da mandare. Teresa andò davanti al tabernacolo e disse, ma Cristo, che cosa stai facendo? Non fai niente per gli altri. E Cristo non rispose subito. Aspettò qualche attimo e disse, Teresa, io per questo ti ho messo al mondo, perché tu potessi provvedere anche a lei. Fratelli, il Signore ci ha messo al mondo per provvedere anche agli altri. Fratelli, è questo il nostro compito, voler bene, amare anche gli altri.